Passiamo invece adesso a vedere qualche esempio di domande sulla seconda capitolo di teoria, che sono quelli di architettura degli laboratori. Allora, queste sono domande più normalmente descrittive in cui bisogna spiegare qualcosa. Ad esempio, domanda numero uno, descrivere la funzionalità della memoria RAM, le sue caratteristiche e le principali differenze rispetto ad un hard disk allo stato solido. Quindi qui ci chiede di confrontare due tipi di memoria molto diversi, allora magari proviamo a scriverlo anche qua qualche nota, quindi per la parte di architetture, vediamo che la prima domanda ci chiede la differenza tra RAM e disco allo stato solido. memoria RAM e memoria hard disk SSD. Allora, la memoria RAM tipicamente è montata, è una memoria che, la prima differenza che mi viene in mente è che questa è una memoria volatile e quella dell'hard disk invece è una memoria permanente. cioè, se stacco il computer, tolgo la corrente, i dati presenti nella memoria RAM vengono persi, mentre invece quelli presenti nell'hard disk invece vengono conservati, perché sennò non servirebbe a nulla. è molto più veloce da questo punto di vista, la memoria RAM perché sennò una memoria interna, è interna al calcolatore, mentre invece l'SSD è molto più lenta. per avere degli ordini di grandezza, la memoria RAM parliamo delle ordini dei, diciamo, circa decine di nanosecondi di accesso, mentre una memoria SSD parliamo di decine di, dell'ordine delle decine di millisecondi, ok? E la memoria esterna, perché non è collegata direttamente alla CPU, ma è collegata attraverso una periferica. vedete, la differenza tra la memoria interna che ha una velocità, un tempo di risposta dell'ordine di nanosecondi e quella della memoria esterna che ha un tempo di risposta di millisecondi, quindi c'è un milione, c'è un dieci alla sesta, sei ordini di grandezza, di differenza. Poi normalmente questo qua è abbastanza capiente, cioè nel vostro computer avete qualche giga, da 4 giga, 8, 16 giga, di memoria RAM, mentre invece l'SSD è molto capiente, quindi abbiamo uno o due terabyte, quindi andiamo di nuovo mille volte di più, mentre qua sono miliardi di byte, qua sono miliardi di miliardi di byte, quindi sono miliardi di gigabyte, un mille terabyte è solo mille, due mila gigabyte, rispetto a poche miliardi di gigabyte, rispetto a poche unità di gigabyte. Ovviamente questa è molto più costosa e questa invece è meno costosa e più economica. Costosa economica ovviamente rispetto al numero di byte, magari hai una memoria RAM che ti costa 100 euro o 150 euro, una memoria SSD che te ne costa 300, ma questa è in grado di memoria di diversi terabyte, mentre l'altra mette solamente alcuni gigabyte, quindi più costosa, il costo lo devo sempre rapportare alla capacità. E ovviamente l'unica particolarità della memoria RAM è che la CPU può accedere direttamente sia con i dati, per leggere e scrivere dati, o per eseguire programmi. La CPU può solo leggere dati o eseguire programmi che sono presenti nella memoria RAM. Che è poi quello che ha scritto Alexis, grossomodo. Alexis mi chiede anche, non c'è un tipo di memoria volatile che ha una capienza di qualche megabyte? Memoria volatile di qualche megabyte? Sui calcolatori del giorno d'oggi direi di no. I megabyte ormai sono un'unità di misura un po' piccola rispetto alla memoria che abbiamo nei calcolatori di oggi. Soprattutto volatile. Ci sono le memorie di configurazione del calcolatore che però sono non volatili. Allora hanno pochi megabyte, ma sono memorie che sono permanenti essenzialmente. La configurazione del BIOS e cose di questo genere. Ok. Proviamo la 2. Cosa ci chiede? Dove è finita? Qua. Qual è la differenza tra un bus seriale e uno parallelo? Fare un esempio di un bus seriale e un esempio di un bus parallelo. Allora, quindi in realtà entrambi i bus, diciamo così, sono strutture di collegamento per il trasferimento dati. Un bus seriale, diciamo così, fa passare un bit per volta. E' composto di solo due fili. C'errebbe un filo più la massa, no? Cioè, devo comunque avere sempre un minimo di due conduttori, di cui uno per i dati. Esempio, il bus USB. Quando voi collegate una periferica sull'USB, infatti la S di USB sta per serial, universal serial bus. Un bus seriale universale. Universale perché posso attaccarci un po' di tutto. E in un connettore USB, se andate a vedere, dentro ci sono solamente... In realtà ci sono 4 fili. Due servono per dare corrente e due per passare i dati. I fili di dati sono solamente due. E quindi i bit che devono essere trasferiti, che ne so, dal mouse seriale, o dalla tastiera, o dalla webcam seriale, tutti i dati devono transitare un bit per volta. Mentre invece un bus parallelo fa passare n bit per volta, perché è composto da n più 1 fili. Di cui 1, vabbè, la massa, lo 0, e poi gli altri n fili sono gli n valori, gli n dati. E quindi vuol dire che ad ogni trasferimento di dati, su ognuno degli n fili, supponiamo siano 8 fili, trasferisco 8 bit in parallelo. Poi, al trasferimento successivo, trasfero altri 8 bit in parallelo e così via. I bus paralleli sono un pochino in disuso all'esterno del calcolatore. Quindi, un esempio, potevano essere di vecchi collegamenti alle stampanti. Adesso le stampanti sono tutte di tipo USB, ma in precedenza avevano un connettore largo con molti ping in parallelo. Oppure, ad esempio, i più calzanti sono i bus interni del laboratore. Ad esempio, il bus dei dati o il bus degli indirizzi. Dove tu hai, dentro il calcolatore, magari 32 bit, 32 fili che vanno in parallelo, che lo leggono al CPU e alla memoria, e puoi leggere un dato in un colpo solo 32 bit, perché questi vanno in parallelo su n fili diversi, su altrettanti fili diversi. E quindi, chiaramente, ha un impatto, diciamo così, una occupazione di spazio maggiore, ma ha una potenzialità di avere una velocità di accesso maggiore, perché i dati vengono letti in parallelo sulla base del numero di bit che ho a disposizione nel bus. Cosa sta n per n più 1 fili? Cioè, io ho un... Pensiamo al bus interno, al bus dei dati, ad esempio, di un calcolatore a 32 bit. Quindi vuol dire che tra la CPU e la memoria, ogni volta che leggo un dato, leggerò in parallelo 32 bit diversi su 32 fili. Però dal punto di vista elettrico, il valore di una tensione elettrica, una differenza di potenziale, viene sempre misurato come differenza di potenziale rispetto a una massa, rispetto a uno zero. Come fisica, come elettrotecnica proprio. Perché le tensioni elettriche non sono dei valori assoluti, sono sempre dei valori da misurare in differenza rispetto a un riferimento. Allora, serve anche un filo, che è il filo di massa, o il filo di ritorno, dipende da come lo chiamiamo, per avere questo riferimento di tensione. Quindi per questo, per trasformare un bit per volta, mi servono due fili. Uno su cui fa viaggiare delle tensioni alte o basse, e l'altro per mantenere sempre la tensione uguale, in modo da poter vedere le differenze che ci sono sul primo. Quindi ci serve un filo di massa in più, tecnicamente. Quindi N è il parallelismo, si chiama anche a volte N, in questo caso, per esempio, è il parallelismo del bus. Un bus con parallelismo 8 bit, con parallelismo 16, con parallelismo 64, mi dice quanti sono i fili che viaggiano in parallelo, e quando devo trasportare un dato, trasporterò tanti bit in parallelo l'uno all'altro. Ok, proviamo a vedere quella dopo. Non ho capito perché non sono utilizzati frequentemente i bus paralleli di vivia su un insieme, sembrano più efficienti, sì, ma sono anche più macchinosi e più costosi, perché tu anziché, no, chiaramente un bus parallelo può essere più efficiente, però hai un numero di fili maggiore, e quindi non potresti avere un filo fine così, per il mouse, avresti un filo che spesso, diciamo così come il mio dito mignolo, tipicamente i cavi delle stampanti precedentemente erano grossi così, quindi sono più scomodi, sono più costosi, e in ogni caso non riesco, un'altra differenza è che, perché qui andiamo un po' sul tecnico, quasi sull'elettronico, se ho solamente due fili è molto più facile proteggere dai disturbi, e quindi se li proteggo maggiormente dai disturbi posso andare più veloce, una frequenza di trasferimento maggiore. Se ho tanti fili in parallelo questi cominciano a darsi fastidio uno o l'altro, se aumento la frequenza di trasmissione, e quindi creano interferenze reciproche. Quindi è vero che trasferisco più bit per volta, ma non posso andare così veloce con la frequenza di trasmissione, perché altrimenti comincio a avere, si chiama cross talk, cioè un filo che parla con quello vicino. E quindi vengono, ormai i bus paralleli vengono limitati, dove effettivamente ce n'è bisogno, e io riesco a tenere sotto controllo anche l'aspetto di compatibilità, e non ho problemi di costi, perché sono comunque dentro a un calcolatore. I bus esterni, pensate anche solo al collegamento di video, il collegamento HDMI, per collegare il computer al televisore, o un videoproiettore, eccetera, pur andando a una velocità molto elevata, è un collegamento seriale, il cavo HDMI, oppure il bus, andiamo pure qua. Prima c'era il connettore VGA, invece il connettore VGA, era un connettore che aveva tre fili paralleli, uno per i tre colori, rosso, verde e blu. Però andando avanti, si sta spostando sempre di più sul seriale. Alla riga 131, cosa ho scritto? Non c'è scritto niente, di cui uno per i dati, punto. Ok, andiamo avanti. Dunque, il 3. Per quale motivo la velocità di clock nel CPU è andata sempre crescendo negli ultimi 40 anni? Perché negli ultimi anni questa crescita si è fortemente ridotta. Allora, la crescita della velocità di clock ovviamente è dovuta alla necessità di sempre maggiore potenza di calcolo. Ci servono computer sempre più veloci e ovviamente grazie alla tecnologia diciamo così, gli avanzamenti della tecnologia hanno permesso di costruire circuiti più veloci e quindi fargli andare in un clock più rapido. Ok? Quindi, adesso abbiamo dei calcolatori che lavorano con qualche gigahertz di frequenza e i primi personal computer quando ero giovane io avevano invece la velocità dell'ordine dei megahertz. Ok? Mi ricordo, i primi personal computer dell'IBM erano 4,77 megahertz. Adesso abbiamo dei calcolatori che vanno invece a 4 gigahertz. quindi siamo mille volte più veloci. Quindi all'arco di 20 anni è aumentata di mille volte la velocità dei circuiti elettronici e quindi si è potuti lavorare con un clock più veloce. Però purtroppo ultimamente si è trovato difficile aumentare ancora la frequenza di clock per motivi tecnologici per limiti tecnologici lo diciamo così genericamente cioè non si riesce a miniaturizzare molto di più questa miniaturizzazione in qualche modo sta rallentando o diventa sempre più costosa sempre più difficile e aumentando la frequenza aumentano le dispersioni aumentano i problemi di compatibilità elettromagnetica ma non entriamo in questo campo sicuramente perché non è il livello di approfondimento che possiamo avere in questo corso e quindi si sceglie si scelgono per migliorare le prestazioni si è andati si va verso CPU multiple i famosi processori multi core cioè ti dicono guarda io oramai la frequenza che vi ho detto 3-4 GHz che è la frequenza del processore di oggi è la stessa che c'era 8 anni fa di lì i computer di adesso non hanno una frequenza di clock maggiore però all'epoca c'era un processore una CPU con un core solo con una CPU solo adesso abbiamo delle CPU che sono multi core 2 core 4 core 8 core che significa in realtà che al loro interno hanno tante CPU diverse che vanno avanti in parallelo per andare più veloce per fare più calcoli anziché aumentare la velocità di funzionamento di una singola CPU di fatto all'interno del calcolatore ci sono tante CPU diverse in parallelo che vanno tutte alla stessa velocità a cui andavano magari le CPU di 5-8 anni fa dove però ce n'era una sola la frequenza di clock ovviamente è la rapidità con cui vengono eseguite le varie istruzioni tutte le operazioni all'interno del calcolatore quindi ogni operazione di istruzione macchina ogni somma sottrazione confronto fatta all'unitaria di metricologica dura una periodo di clock quindi aumentare la frequenza di clock significa ridurre il periodo del clock e quindi nello stesso tempo di un secondo farci stare un numero maggiore di operazioni quindi alla fine per fare più operazioni o vado più veloce oppure o più si più in parallelo che fanno ciascuna una parte delle operazioni stesse proviamo ad andare avanti domanda 4 spiegare probabilmente cosa si intende per la gerarchia di memoria di un calcolatore quali sono i vantaggi che derivano da tale struttura cosa si intende con la gerarchia di memoria significa che all'interno di una CPU ci sono memorie diverse diciamo che in generale le memorie più vicine alla CPU sono più veloci perché devono star dietro la velocità della CPU ma meno capienti via via nel chiamare lontano dalla CPU le memorie saranno più capienti ma più lente non le posso avere tutte veloci e capienti per ragione di costo no e quindi abbiamo che la CPU come gerarchia di memoria rispetto alla CPU avrò una memoria che è più veloce di tutte più vicina di tutte alla CPU più integrata con la CPU che sono i registri poi spesso c'è una memoria cache poi c'è la memoria RAM la memoria interna principale poi ci sono le memorie esterne quindi le memorie esterne come i dischi di stato solido oppure i dischi gli hard disk a rotazione a piatti rotanti che sono ancora più lenti ma ancora più grandi cioè adesso noi un SSD lo troviamo da 1-2 terabyte ma un hard disk lo troviamo anche da 8 terabyte 16 terabyte ok quindi più grande meno costoso ma più lento e il motivo appunto di avere questa gerarchia di memoria è che se io potessi avrei 10 terabyte di memoria tutte fatte con la memoria RAM o con la memoria interna dei registri però mi costerebbero dei miliardi non posso permettermelo e quindi avrò come registro avrò pochi kilobyte poi avrò la RAM di qualche centinaio di kilobyte o qualche megabyte forse è la memoria cui si rivedevi prima ma è una memoria solamente di transito quindi non è una memoria di dati poi qui ho i gigabyte qui ho i terabyte quindi man mano che mi allontano sono sempre più lente ma sempre meno costose e quindi alla fine tutto questo meccanismo serve per far arrivare alla CPU i dati alla velocità massima perché vicino alla CPU ci mettono le memorie più veloci ma permettendo di accedere alla capienza massima cioè se un dato è sull'hard disk o sull'SSD riesco comunque a leggerlo trasportandolo via via dalle memorie più lontane alle memorie più vicine ci vorrà più tempo ma riesco comunque a trasportarlo quindi l'idea di gerarchia è proprio questa di avere una serie di memorie con caratteristiche diverse in funzione di quanto strettamente o vicino sono collegate alla CPU rispetto a invece essere magari all'isterno del calcolatore ok vediamo ancora un paio ad esempio il 5 è uguale ok alla fine formulato in modo diverso ma fa la stessa domanda cosa si intende per il gerarchio di memoria quali sono le caratteristiche fondamentali che differenziano i vari tipi di memoria le caratteristiche sono in questo caso 3 capienza velocità e costo ricordiamoci il costo che non è un parametro diciamo così puramente tecnico ma è quello che motiva il tutto se costasse tutto uguale allora ma chi se ne frega di avere delle memorie più lente usiamo solo quelle più veloci purtroppo invece non posso proprio perché ha una differenziale di costo diverso quindi 4 e anche 5 sono la stessa domanda la sesta mi chiede queste le altre sono così come anche se vogliamo la 10 il gerarchio di memoria delle modelle architetture di elaborazione quindi anche la 10 era la stessa domanda centrarebbe anche la volatilità sì mi dice Rebecca però la volatilità in qualche modo è subita nel senso che sicuramente dovrò avere della memoria permanente perché sennò quando spengo il computer perdo tutto ma non siamo in grado di fare la memoria permanente veloce nessuno l'ha ancora inventata e quindi ci dobbiamo sorbire quelle più veloci sono necessariamente volatili quindi in qualche modo sì c'entra anche se vogliamo che quelle che mi allontanano da essere più le memorie siano più capienti ma più lente e possono essere permanenti non volatili se vogliamo possiamo aggiungere anche questa precisazione che però è molto collegata alla velocità di accesso ok allora vedevamo la domanda 6 mi chiedeva descrivere l'unità di controllo indicando da quali blocchi è composta e quali sono le loro funzioni ok quindi ricordiamoci che la CPU in generale è fatta da l'unità di controllo più l'unità operativa ok l'unità di controllo è quella che controlla l'esecuzione delle istruzioni e l'unità operativa è quella invece che in cui avviene l'elaborazione dei dati il testo ci chiede l'esercizio ci chiede solamente di parlare dell'unità di controllo l'unità di controllo che comprende sicuramente quali sono le caratteristiche principali dell'unità di controllo è quella di decidere quali operazioni fare quindi conterrà al suo interno il contatore di programma che dice quale l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire istruzione da eseguire poi abbiamo dentro l'unità di controllo abbiamo l'instructional register che è la codifica binaria dell'istruzione da eseguire essenzialmente è questo io ho questi due registri l'unità di controllo manda fuori il valore del program counter verso la memoria dalla memoria torna indietro la codifica dell'istruzione e viene memorizzata in questo registro di istruzione dopodiché la CPU ha una logica di decodifica che dice dalla del contenuto del registro di istruzione comanda diciamo così determina i comandi da dare alla unità operativa e dalla memoria quindi vedendo l'istruzione capisce se questa è una istruzione di somma una istruzione di trasferimento dati una istruzione di confronto una istruzione di salto e manda i comandi all'unità operativa tu devi fare questa somma manda i comandi alla memoria dicendo tu devi leggere un dato devi scrivere un dato capendolo dalla codifica dell'istruzione che ha letto questa è la vita dell'unità di controllo se vogliamo per completezza la domanda non lo chiedeva ma magari altre domande le potrebbero chiedere l'unità operativa invece contiene l'unità metricologica o eventualmente l'unità metricologica in floating point la FPU se vogliamo anche citarla contiene i registri l'unità metricologica è quello circuito che fa le operazioni somme sottrazioni confronti moltiplicazioni i registri e in particolare il registro di flag che invece sono interni all'unità operativa che fanno le operazioni di lettura scrittura o le operazioni arimetiche che sono comandate dall'unità di controllo quindi si parla in questo modo cosa significa Alexis mi chiede che il program counter gestisce l'indirizzo della prossima istruzione a eseguire non è che gestisce ma contiene memorizza questo è un registro program counter è un registro che contiene un dato quindi se questo dato fosse questo vuol dire che la prossima istruzione che la cpu dovrà leggere la prossima istruzione è in memoria all'indirizzo a questo indirizzo quindi vuol dire che la cpu ogni volta ha un indirizzo che dice ok la prossima istruzione è in memoria all'indirizzo 100 allora la cpu va a prendere ciclo di fetch chiedere la memoria dimmi cosa hai all'indirizzo 100 questo gli restituisce un dato questo dato va a finire nel registro di istruzione l'istruzione corrente che adesso devo eseguire e poi la decodifica e i comandi sulla base del dato che c'è scritto poi questo program counter si incrementa e passerà alla cella 101 e chiede la memoria cosa c'è nella cella 101 e ci sarà un'istruzione diversa da eseguire e così via quindi program counter si chiama counter proprio perché si incrementa ogni volta per passare all'istruzione successiva ma il suo valore è semplicemente l'indirizzo di memoria in cui ci sta l'istruzione codificata in binario ovviamente in un modo opportuno da eseguire FPU sta per floating point unit cioè è l'unità rimeticologica per lavorare con i numeri in floating point numeri in virgola mobile numeri reali i float l'unità rimeticologica normalmente lavora sui numeri interi solamente sugli integer mentre la FPU lavora su numeri reali all'interno di un processore moderno multicore tipicamente tipicamente abbiamo tipo 4-6 unità rimeticologica intere e 2-4 FPU che lavorano in parallelo sulle varie istruzioni da eseguire a seconda dell'operazione che dobbiamo fare siano su numeri interi o numeri floating point sono parti di circuiti diversi che vengono chiamati in gioco quindi abbiamo molte in un processore moderno multicore abbiamo molte unità operative diciamo così separate e collegato alla domanda 6 c'è la domanda 7 che mi chiede invece il ruolo dei bus ecco scusate la domanda 8 alla fine delle caratteristiche dell'aulo dell'FPU ne abbiamo già parlato quindi in qualche modo era un non era richiesto ma ne avevamo già parlato qua quindi diciamo così che questa è la risposta alla domanda 6 e alla domanda 8 la domanda 7 invece è quella che parla dei bus e ci chiede caratteristiche e ruolo dei bus i bus inteso come bus chiaramente interni al calcolatore che è la stessa cosa della domanda 9 descrive le funzioni e le caratteristiche dei bus presenti in un tipico sistema di elaborazione quindi la 7 e la 9 sono imparentate e ci chiedono di dire che i bus sono una infrastruttura di comunicazione interna al calcolatore interna al laboratore per trasferire i dati dalla CPU da e verso la memoria o le periferiche ok quindi la CPU è sempre il centro nodale di tutte le comunicazioni e dalla CPU partono tre diversi bus che abbiamo un bus degli indirizzi o address bus abbiamo un bus dei dati del data bus e un bus di controllo che è un control bus partiamo dal data bus che è quello più semplice si chiama bus parallelo è un bus parallelo che ha tanti bit quindi una che è un bus parallelo diciamo così di chiamiamoli m bit m sarà 32 sarà 64 tipicamente in alcuni casi 128 ma di solito siamo sul 32 64 sulle architetture moderne su cui transitano i dati letti scritti quindi tutte le volte che la CPU legge un dato dalla memoria questo dato viaggia dalla memoria sul data bus fino alla CPU la CPU se lo legge tutte le volte che stampiamo qualcosa a video questo dato parte dalla CPU transita sul data bus arriva alla periferica di output che è il video la quale lo legge e lo visualizzerà poi sullo schermo la test bus invece è anche questo è un bus parallelo di n bit n può essere diverso da m chiaramente che contiene che specifica l'indirizzo di memoria da cui leggere o scrivere la CPU ha un bel da dire voglio scrivere il dato 1000 però in quale cella di memoria la vuoi scrivere? allora sul data bus scrivo il dato metterò il dato 1000 che voglio scrivere sull'address bus metterò l'indirizzo della cella di memoria in cui voglio che la memoria vada a memorizzare quel dato perché dire alla memoria salva questo dato la memoria ti chiede ma sì ma dove lo salvo visto che io ho miliardi di celle a disposizione e quale cella usare me lo dice il numero che la CPU avrà messo sul bus degli indirizzi e il bus di controllo invece contiene i comandi tipo comandi e temporizzazioni ad esempio il comando può essere scrivi oppure leggi cioè nel momento in cui la CPU dice senti io voglio accedere cara memoria voglio accedere alla cella di indirizzo 3800 e la memoria dice ma vuoi leggere il dato che c'è in quella cella o vuoi scrivere il dato che c'è in quella cella allora come faccio come fa la CPU a dirlo nel control bus ci saranno alcuni segnali alcuni fili che indicano se l'operazione che voglio fare è di lettura o di scrittura altri fili che sono fili di temporizzazione cioè dice adesso non ho nessuna operazione da fare adesso questa operazione è finita e così via non entriamo nel dettaglio questo è una serie di fili che portano dei cosiddetti segnali di controllo che sono appunto comandi cosa devi fare e temporizzazioni quando lo devi fare questo a livello un po' ampio l'altra parlando dei bus l'altra diciamo così formula che ci troviamo in alcune domande in questo caso non ce n'era nessuna ma a volte ci può tornare utile pensare che la capacità di memoria indirizzabile da una CPU quanti dati potrà leggere o scrivere la CPU e potrà leggere tanti dati quanti sono le celle di memoria indirizzabili indirizzabili cioè di cui posso fornire un indirizzo diverso dalle altre e questo quanto sarà sarà 2 elevato a n se il mio indirizzo lo scrivo su n bit sul base degli indirizzi avrò due ln indirizzi possibili e poi avrò la dimensione della singola cellula di memoria che tipicamente sono m cioè la dimensione l'ampiezza del database quindi la capacità massima di memoria indirizzabile della CPU sarà m volte m bit per due ln indirizzi n nell'aldress bus sapere il numero di bit dell'aldress bus quindi possiamo avere le base di indirizzi da 64 bit da 80 bit dipende dal se voi dovete indirizzare una memoria di 4 gigabyte 4 giga sono 32 bit giga fa 30 più 4 si 32 bit questo è uno dei motivi per cui un taglio di memoria particolarmente utilizzato è proprio 4 gigabyte perché ti bastano 32 bit come base dell'indirizzo se vuoi più memoria se avessi non so anziché 4 gigabyte ne avessi 8 oppure 16 vuol dire che devi avere un calcolatore il cui address bus abbia più di 32 bit quindi tipicamente hanno 40 ad esempio o 36 per poter indirizzare quella quantità di memoria in più perché altrimenti non riusciresti la memoria magari ce la potessi avere dentro il computer ma non hai abbastanza indirizzi per poter distinguere o accedere a tutte le celle possibili immaginabili ok quindi alla fine in questa lezione alla fine gli argomenti sono memoria cpu unità di metrica logica unità di controllo unità operativa e i bus di sistema e qualche magari piccolo calcolino qualche piccolo ragionamento da fare intorno a questi ok scusate sono sforato un pochino il tempo ma tanto abbiamo le tre ore ma mi sembrava diciamo così opportuno chiudere l'argomento quindi adesso vi do un attimo di respiro e mi do un attimo di respiro se siamo d'accordo possiamo fare una solito quarta di pausa 15 minuti di pausa e poi dopo la pausa riprenderemo a vedere invece gli altri tipi di domande che sono quelle sulla programmazione python quindi la terza domanda di teoria nel frattempo se avete dei dubbi e delle riflessioni io vi metto magari sulla chat della lezione tutto questo poi chiaramente ve lo salvo anche sul sito ma adesso se volete riguardarvelo con calma ve lo metto nella chat e interrompiamo per 15 minuti quindi ci possiamo possiamo riprendere alle 13.30 così abbiamo ancora un'ora dalle 13.30 alle 14.30 per vedere il terzo argomento se non ci sono domande al volo dell'ultimo momento possiamo andare a prenderci o un caffè o perlomeno un po' d'acqua avendo parlato per un'ora e mezza di fila ok allora ci vediamo dopo 13.30 grazie